Musica Terra, Sapore e Vini Siamo qui alla Campazza nella provincia di Ravenna con Gilles e volevamo chiedere a te Gilles Campazza, che cos'è la Campazza? La Campazza è una realtà che opera nel settore della ristorazione nata 35 anni fa da un chiosco di Piadina Devo dire che da 35 anni ad oggi abbiamo fatto qualche passo in avanti sempre ovviamente accompagnati dalla passione per la cucina, dalla cultura del cibo, dal rispetto per l'ambiente e dall'amore del nostro territorio Perciò oggi siamo qua, abbiamo una realtà che può costatare su circa 1300 coperti al chiuso e oltre a 400 coperti all'aperto nel grande parco Abbiamo un progetto ovviamente di rintroduzione della cicogna bianca, ci occupiamo di catering, di realizzazione di eventi ed in generale ovviamente di ristorazione, ecco un po' a tutto campo Ma senti Gilles, io sono stata in cucina e ho visto dei bellissimi piatti di pesce, vuoi raccontarvi qualcosa di questa vostra linea di mare? Sì, volentieri, il pesce rappresenta la fondamenta della nostra cucina Abbiamo la fortuna di avere un mare che ancora ci regala delle fantastiche prelibatezze Noi amiamo preparare quello che il mare ci può donare ogni giorno Parliamo di pesce azzurro, canocchie ovviamente Sappiamo che l'Adriatico ne è ricco, soprattutto anche nel lato nord e poi via via spaziando da seppie, calamare, secondo ovviamente della stagionalità Abbiamo assaggiato anche un tagliolino particolare, molto buono, con del pesce, mi racconti un po' questo piatto? Guarda, è un tagliolino con delle triglie e con dei pomodorini Un piatto semplice, ovviamente fatto con le triglie che sono ben presenti nel nostro mare anche in questa stagione E' un tagliolino fatto con le uova di gallina romagnola, una razza autoctona delle nostre terre che ha la caratteristica di avere questo tuorlo di varie dimensioni delle uova che sono biologiche, quindi elevate all'aperto e prive di petacarotene quella sostanza che in campo industriale, negli allevamenti si usa per dare quel colore un po' più acceso alla pasta Grazie